Oggi il nostro obiettivo è quello di andare a vincere in tutti i server del mondo E ovviamente siamo tutti e tre in partite differenti Signori siete pronti? Siamo andati pronti, let's go! Allora, io sono in Middle East, che sarebbe Medio Oriente e Ferro, resta in Europa E invece Refe è in... Tu dove sei Refe? Io sono in NA East con 96 di ping Quindi in America, perfetto, siamo tutti allo stesso ping Ma adesso ragazzi inizia questa kill race E chi fa più kill in questi server esteri andrà a vincere, ben 1000 euro, separatevi Perfetto signori, allora partite in un modo un po' particolare Perché ecco, con 120 di ping non è la cosa più semplice del mondo, devo essere sincero Però ho trovato già subito una pistolina, ci sono già subito delle persone Ragazzi mi raccomando, la cosa più importante, iscrivetevi al canale CodicePOWA nel negozio oggetti E andiamo a vedere un attimo cosa stanno facendo gli altri Signori, indovinate già un po' chi li andrà a vincere questi server? Precisamente io signori, sono già in Europa, quindi sono già abbastanza avvantaggiato Anche se onestamente, attenzione perché gli altri dovrebbero beccare gente più scarsa In teoria la gente più forte sta in Europa Quindi non lo so in realtà che andrà a vincere, vabbè Io comunque sono più forte, quindi vinco io, punto stop Contando che in teoria in America dovrebbero essere 8 ore indietro Adesso dovrebbero essere le 3 di notte Quindi c'è la grande possibilità che ci siano solo bot, capito? Quindi ho una grande possibilità di vincere Purtroppo però il ping non sarà d'aiuto Perché con 94 di ping sono così dire tipo mettere una build quanto ci mette, no? Oddio non ci mette nemmeno troppo Da quello che so qua in Medio Oriente i giocatori sono molto più scarsi Cioè non me ne vogliate ragazzi che giocate nel Medio Oriente Ma diciamo che il livello con l'Europa che è dove giochiamo noi è totalmente differente Intanto c'è un tipo qua Spero che non sia a questo punto ragazzi uno di quei nabbi clamorosi Se no, ma non credo, sapete? Oddio, no, 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 non posso già morire Oh, altro che nabbo clamoroso Questo qua mi sembra un fenomeno? Beh proprio qui che ho fatto la giocata Io ho elevato il ping eccessivo dei server esteri Utilizzando Gear Up Booster Questo booster ti permetterà di collegarti al server più vicino Quindi per inventare molto meno ping Ma soprattutto la cosa più bella di tutti Ovvero giocare a Fortnite con zero di ping Per esempio questo qua come sto giocando io state vedendo, no? E questo qua invece è con Gear Up Booster Mi raccomando ragazzi se volete utilizzarlo Basterà andare a cliccare il link in descrizione Oppure al commento evidenziato Scaricare Gear Up Booster E cercare qui nel launcher Fortnite Esattamente così Vi comparirà ed ecco qui Basta che cliccate su Boost Mettete la regione che volete Europe, Middle East O comunque ce ne sono tantissime Io in questo caso farò Europe Così ragazzi boosterete la vostra connessione Andrete a un ping molto minore del solito che avete E sì se ve lo state chiedendo Funzionerà anche perché la connessione è più forte Quindi ecco per se avete 10 di ping Ne fate meno ancora Qua c'è in diretta il ping che è 10 La perdita che è 0% E il miglioramento rispetto a quello che avevo prima E del quasi 300% Oh mio dio è tantissimo Trovate il link in descrizione per scaricare questo booster Fantastico io ve lo consiglio Tra l'altro potete anche entrare nel loro server Discord E sì se ve lo state chiedendo funziona anche per Xbox, Playstation, PC, Switch Tutte le varie console insomma Ma per queste qua appena citate come Xbox, Playstation e Nintendo Switch Bisogna per forza utilizzare il router HyperEv Che potete trovare nel link in descrizione Ed è l'unico modo per utilizzare appunto GearUp Booster Una cosa importantissima ragazzi Ovviamente tutto sicuro Perché l'ho provato io Lo sono installato L'ho boostato E fidatevi è la cosa più sicura che ci sia Anzi ve la consiglio adesso Ma soprattutto ragazzi Guardate che figata Sto facendo pochissimo ping Rispetto a quello comunque che faccio di solito Quindi io ve lo consiglio ragazzi Trovate il link in descrizione Ok guardatelo Ho già un player signori Gli prendo le gambine Il gioco è buggato Mi fa prendere le sue gambine No 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 va bene questa cosa La esponiti No 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 Questo ha le C4 Questa cosa mi fa paura Ma let's go Kill lozza signori Inflick addirittura È la prima kill Ce la portiamo a casa Oh porca paletta Allora diciamo che Mi conviene un attimo coprirmi E stare soprattutto Molto attento Perché io parlo un po' troppo E il fatto del già vincere Non è una delle cose Che mi riguardano in questo momento Fermi però Fermi però perché Mi ha tirato una bellite Ma io gliene tiro 5 di fila E faccio la seconda kill Mamma mia che bello Però non laggare signori Anche perché Diciamo che il mio forte È proprio il build E i trick E le skill E io sono proprio bravo in questo E non laggando Ho un privilegio assurdo Let's go Ok basta Ok c'è un tipo c'è un tipo Attenzione Distrutto Mangiato completamente Dai 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 che mio Dai che mio E signori Let's go Questa kill è fatta Stra easy C'è un altro tipo Ecco andiamo bene Ah no aspetta Aspetta Sono dei bot Meno male ragazzi Perché poi se no Molto probabilmente Sarai morto Quindi me ne vado Me ne scappo via Ma è tutto questo La prima kill Già ce l'abbiamo Oh mio dio Via 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 Niente Sono morto Parcomando Ed eccola qui La prima kill Lozza Stra easy Per me Signori Come pensavo Ci sono un po' di bottazzi Quindi dovrebbe essere abbastanza easy Ok devo ammettere che forse Queste sono lievemente Fightando Ma veramente ragazzi In una maniera Mima Sì vabbè raga Quanto buildano Quanto buildano questi Rega Bak 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 Ok un bel 33 Intanto se l'è beccato Sono morti Tutti Oh Non ho fermi 160 Oh no 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 Ho missato Il pompa No ragazzi Sono missato Tutti i colpi Allora Potrei essere stato Un nabbo Lo ammetto Ma mi prendo le mie responsabilità E vado a fare velocemente un'altra partita Buon signori nuova partita Ma vi devo dire una cosa Da quel che vedo Il livello ragazzi è salzato tantissimo Perché io mi ricordavo di giocare qua In Medio Oriente Quando proprio l'avevano aggiunto Che ero abbastanza scarsino anche io Devo essere sicuro ragazzi Il livello è cresciuto tantissimo Ma soprattutto siamo quasi livelli di Europa Che tra l'altro per chi non lo sa Europa è il server più difficile in cui giocare Perché ci sono più player soprattutto Non lo so in Europa ragazzi siamo troppo forti Abbiamo tutti le mani che sono clamorose Oppure semplicemente c'è chi utilizza il codice Power nel negozio oggetti E di conseguenza forti Mi raccomando utilizzatelo L'ho sentito raga è qua dentro Oddio Parte uno dei fight più Ma ma Uno dei fight più incredibili di questa storia Ok D'accordo Un fight assurdo Woo N.I.S.T. ragazzi Difficilissimo vince Ve l'ho detto Vero che sono Ormai sono le tre di notte raga In America però Non mi aspettavo così tanti bot Qua un altro Guarda qua Oddio Questo potrebbe anche non essere un bottazzo eh E invece E invece E invece è proprio un bottazzo Guarda è più Più forte Sto stupido è più forte Del resto Zio Pera Com'è possibile Non posso più perdere Perché sennò veramente Il mio onore Va ai miei piedi Mi cade in basso Quindi no Non va bene signori Questa è nostra Vado proprio in una prima città Esco con almeno 10 kg Vincola partita con almeno 20 kg E se qualcuno mi dice qualcosa di troppo Ce l'abbiamo Allora Cassa del re Da meno spas No Non mi ha dato lo spas Però va bene No 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 fermi Non va bene Non va bene proprio per nulla Anche perché questo Un 90 Si è beccato in testa Ma è carichissimo Carichissimo è pronto a combattermi Ma no Ci muore in realtà Attenzione Però è troppo più forte È troppo più superiore Dammi Dammi 30 di pietra per favore Guarda lo mi spara da là in fondo addirittura Bam 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 Ha uno di vita Signori ma non ho messo un colpo poverello Intanto c'è un tipo qua signori davanti a me Ma cosa sta facendo Ma cosa sta facendo Boh Distrutto distrutto completamente Me lo sono asfaltato signori Mi è arrivato proprio questo cometto Questa E ragazzi Era una kill clamorosa Per fare 100 di ping Ragazzi Letteralmente Questa era Mi dispiace ma una kill clamorosa Siamo già alla prima Intanto Devo essere sincero Secondo me non mi sta andando troppo bene Per quanto riguarda il mio livello raga Perché sto a 2 kill in totale Perron avrà chissà quanti Dato che lui gioca in Europa E Refe Sono curioso invece di vedere Refe raga Oh C'è un tipo Attenzione Bomb Aia Aia Ucciso Già così Ok Molto bene ragazzi E siamo già 2 kill Ma in tutto questo Alcuni sono bot Li vedete sono proprio bot Alcuni sono scarsini Non lo so Mi sa che va un po' a fortuna Perché ragazzi A me sembra strano Che la partita di prima Ho incontrato dei pro player Invece questa qua Non sto incontrando comunque Dei fenomeni Vabbè Devo ammettere che starmai È veramente troppo illegale Un altro killato Là ce ne sta un altro ancora Che devo subito pushare con la scopa No ragazzi Troppo più forti Oggi siamo troppo Letteralmente più forti Dai ma gioco Ma ragazzi Comunque c'è un delay folle Nel poter utilizzare il pompa Quando usi la scopa Assurdo Cioè sono d'accordo Che un po' ci sia Però diciamo Che è veramente Un po' eccessivo Così ci sto player qua Oh no 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 Abbiamo già 4 kill signori Siamo messi abbastanza bene Bam Allora Bam Assalto in Conoscendo tutti i player Io posso anche devastare E fare tutte le belle giocate Lo ammettere Non colpa mi one shot Con questo non è stato il caso Meglio così signori Ma what the fuck Big bro Ma cosa stai a fa' Big bro Eccoli qua Ok Ma porco mondo Oh eccolo qua Un altro di voi visto signori Ma ragazzi Ma è un bottarello Ma guardatelo È un bottarello Ma perché Cosa ci fanno Sti bottarelli qua Scusatemi Boom Boom Ah no Ok ok No 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 Aspettate Non è proprio del tutto un bot Era un giocatore Aia Aia ragazzi Aia Cioè questo qua Letteralmente era a livello Molto grave Non mi aspettavo Di trovare Persone così scarse Nemico Anzi due nemici avvistati Signori Uno sta alla mia destra L'altro invece è una bananita Che si sta nascondendo qua Ecco qua Guardatela 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 Boom Craccato Distrutto signori Distrutto via Fuori Morto È morto ragazzi È morto È morto E stiamo già a 4 kill Intanto mi vado subito a pusciare Questo qui Sono sicuro che c'è Perché letteralmente l'ho sentito A meno che tu non voglia scappare da power Brother Mi sa che sei morto Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Boom Distrutto Distruggelo ancora Ebbene sì signori Sta un HP Ed è proprio qui Che Powa Fa la sua strage Mamma mia Oddio Ho sentito un altro tipo Così tra l'altro c'aveva pure il DMR tattico Ok Non è vero Era cabi Cabi del cacchio Anche a che mi fa venire colpi Ragazzi Che Incredibile partita questa qua Oh Questa mi sta piacendo Dannazione Altra che quella di prima Un altro ancora raga Cioè ma Si è avverata la cosa Delle 10 kill Nella prima città che trovavo Raga Assurdo Fermi 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 No 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 Anche della morte forse Nella prima città Signori si sta avverando Eh attenzione 80 No 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 80 di nuovo Mamma mia No way Non ho mai editato Mamma mia Questo cavolo di lag Ma soprattutto dove è andato Dai ma non ci credo È scappato raga Ma dove è finito Trovato No way No way raga L'ho fullboxatissimo Prendo questo muro E ci siamo Un'altra kill Portata a casa Sai kill per noi Chi è che la batte Questo incredibile Mega Super Kill fight No era kill wars Non mi ricordo Vabbè è una kill race ecco Ed eccoli qui signori infatti È qua dentro È qua dentro No 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 Tu non mi cederai Tu non mi cederai brother Dammi gli slurpini subito E cosa sta facendo Oh Bomb 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 Oh mio dio Oh mio dio Ok Allora attenzione Posso fare il succo sul coso Grazie Bomb let's go baby Distrutto completamente Questo qua vedete Era stra scarso Cioè questo qua se lo trovavate Per l'Europa ragazzi Cioè non è che era il giocatore Più forte del mondo Anzi non era scarso Ma non era neanche il giocatore Più forte del mondo Che comunque Devo essere sincero Non so neanche io Perché non ho preso Lo spasoro Ma signori Siamo ben 6 kill Oh di lusso ci sta andando Che bello Che bello Finalmente Un po' di fortuna Anche a Powa E che cacchio Un po' di fortuna Ma attenzione Perché c'è Zio Peppino Che mi vuole uccidere Ehi zio Ciao ciao Muori Muori Grazie Aspetta Ti tiro un altro colpo Perfetto Tanto ormai ragazzi Io mi diverto Con lancia zucche Lo so che non si dovrebbero Fare così le kill Però chi se ne frega Tanto Vedo che i giocatori Non sono i più forti del mondo Quindi solo meglio Fermi C'è un player No 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 Non mi ha visto Mi ha sentito 80 40 Full boxato Piramidella nel box Nel box Nel box Sei finito nel box Sono finito io nel box Sparo 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 Oh porca vacca Ok un bel 50 Vogliamo in aria Mamma mia Questa non è male raga Qua c'è pure la pizza Quindi si riful in un secondo No raga Questo ci potremmo venire Fermi 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 Ok No way Gli avevo preso tutto Letteralmente ragazzi Non ci sono player Questa cosa è letteralmente assurda Invece Fermi Preferivo non ci fossero Molto onestamente No way No way Rassuma Ma come sono morto 22 di vita Mi deve sparare l'altro Da sopra l'isola Io non ho parole All'Europa Bocciata completamente Veramente i giocatori Sono degli infami Ti becchi la eletta Te la becchi Tutta No No way Regà Numero 3 Da Goldi Che è quello di prima Del bunker Regà Poi Porco mondo Ci stava Cioè C'è stato C'è stato tutto Se li stanno dato di santa ragione Qua da dove vedo Allora Signorini Oh questo qua non è scarso ragazzi Questo qua non è scarso Finalmente ho incontrato uno Che non mi sembra scarso 59 A meno che non ti vuoi dare Un colpo sui piedi Broder Fidati che Non ti conviene Ok Guardalo 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 Oh mio dio Ho rischiato Ha rischiato anche lui Perché ha rischiato anche lui Però In tutto questo Basta Broder Ma porco mondo Che kill L'ho fatto Che kill L'ho fatto Ragazzi No 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 Non fatemi cadere Non fatemi cadere Oh mio dio Che cacchio Di che l'ho appena fatto Ragazzi Questa qua era Una delle kill Più assurde Che abbiamo mai fatto Naturalmente Negli ultimi Tre video Credo E tra l'altro Questo qua era pure Bello forte Ovviamente Per il livello Che c'era ragazzi Scusatemi Ma Credevo di aver Incontrato solo io Prima Delle persone normali Invece no Effettivamente Non sono dei pro player E c'è un altro E me lo vado subito A pushare Guarda proprio Tempo zero Non provate a rubarmi Le kill Grazie mille Sto arrivando Piccolo razzo per te Piccola pompata per te E non sei ancora morto Quanta vita c'hai Tu scusami Mi ho fatto un sacco Di danno Vabbè fa niente Comunque sto ben quota 9 kill E mancano altre 8 persone Oltre a me E tra l'altro Qua c'è neppure un altro Ragazzi Iscrivete qui sotto Nei commenti Secondo voi Quanti kill farò Veloce Avete solo 3 secondi Nel frattempo Mi vado a uccidere Anche quest'altro qua Ho le 10 kill Easy Belle E stiamo pure belli Tranquilli anche perché Qua ragazzi c'è un altro Tipo da quel che ho sentito Me lo vado subito a pushare Ma in tutto questo Spero che gli altri Non abbiano fatto più kill di me Anche se la vedo dura 11 kill Raga mi sa che l'ho vinta Io sta partita Cioè oddio No me la sono gufata Non volevo dire Sta partita Volevo dire La kill race Signor Pua Io ho finito E ho finito Seconda posizione Con 7 kill Seconda posizione Con 7 kill Oh non male Ma io c'ho ben 10 kill Anzi con quello di prima 11 E c'è un tipo qua che Perché stai scappando brother Lo devo uccidere refi Ti giuro Ma sono tutti bot Ma fra ma sono tutti Ma che sono tutti bot Tu hai incontrato solo bot Io sono bot Tranne l'ultimo Che era un player Di quelli che può Arriva sai Quando finisci un fight Arriva per ultimo Ti spamma Così no Ho capito Ho capito che tipo di giocatore Comunque c'è un tipo qua Che non è per niente scarso Ragazzi io non posso assolutamente Morire con 10 kill Anche perché chissà ferro Quante ne ha fatte Porco mondo Questo che è forte Questo che è bello Forte Lascia stare Ok questo qua tanto Mi prende il muro brother Tempo 0 Bomb Distrutto Let's go baby Me lo sono mangiato refi Questa vedi È la potenza Di Powa E del codice Powa Bravo Grandissimo Ciao ragazzi Com'è andata? Allora ti dico solo Che io sto a ben 12 kill Contando anche la partita di prima Mamma mia Sono troppo forte raga Vi giuro Io ne ho fatta i 6 e 2 Che cavolo è sta cosa? Ma hai vinto? No neanche Quindi vi state dicendo ragazzi Che io sono in finale Mi mancano solo le ultime 5 persone E sono quello messo meglio di tutti Ma tranquilli Sì ma questa non è palesemente La prima partita di Powa No 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 Infatti era la seconda Allora Che clown Che cosa volete? Cos'è? Che ci avevo pure detto? Popi 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 Ragazzi Fermi Aspettate che c'è un tipo Qua sotto di me Bomb Bomb Distrutto Oh Let's go Troppo forte ragazzi Mi dispiace Ma sono troppo forte Perché è la seconda volta che fa una kill Quando ci sono io Ed è la seconda volta che fa Oh Sono troppo forte Come minimo Sono tutti i bot Ma sai perché? No in realtà questi qua li ho uccisi Perché non sono bot Quelli di prima Non ho neanche esultato troppo ragazzi Eccolo qui Abbiamo un altro ragazzi Che non sa neanche come si chiama Questo qua Dai Questo qua ragazzi Ve lo posso anche risparmiare Come super kill Eh sì guarda Se lo dovresti riuscire a prendere Come ti chiami eh Tu esulti perché Fai il kill su di loro? Cioè No Questo Adore Non ti senti un po' un bagliaccio Devo essere sincero raga Su questo qua non usultere mai Ma su quelli di prima fidatevi Che erano belli forti eh Ma guarda anche il loot Ferro questo qua esulta Guarda il loot che c'aveva Beh dai Se l'hai creato con le sue 13 kill Onestamente eh Cioè ragazzi 13 kill Più una di prima raga Fidatevi che queste qua Mamma mia Sto distruggendo tutti Sono troppo forte C'è un altro tipo qua Che sta sparando Ma ragazzi Ma non mi ha sentito Ma non mi ha sentito Ah Arriva Ancora un'altra kill per Powa Signori E dopo questa Siamo in ufficialmente 1v1 finale Posso prenderlo Grazie Grazie Let's go Comunque c'hai sta mira Tu oggi eh Non rompere Mamma mia Guarda che Refe però Sono distra Refe sono distra Io cerco solamente Di farlo Deconcentrare Capito Più si deconcentra Più perde Vuole farmi perdere ragazzi E io non perderò Powa Ha un'altra kill Pronta qui Ma in tutto questo ragazzi Manca solo l'ultimo Ma dov'è Dove si sta Michela pronta qui Scusa Infatti scusa Mi ha appena detto Che era pronta qui Ma perché non sai parlare Italiano Me lo spieghi Ma come ho vinto ragazzi Non lo so Ho stati fatto 15 kill E signori Powa vince ufficialmente La kill race Codice Powa Lelego soggetti Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi anche Quello delle boys Ci vediamo al prossimo video Bella